Il mercato dell'usato nel nostro Paese vale 23 miliardi, quelli più gettonati sono stati i veicoli, i prodotti elettronici prodotti per la casa e non ultimo anche l'oro usato perché purtroppo per la pandemia molte famiglie hanno dovuto dare fondo al proprio tesoretto. Ovviamente noi riteniamo che sul mercato dell'usato bisogna insistere, bisogna incentivare perché il riciclare i prodotti significa comunque un beneficio dal punto di vista ambientale. Grazie Grazie